Allora, terzo tempo, una partita, questa sembra un replay dell'Amichevole, però oggi è stata una partita più vera, vero? Vi siete divertiti di più o di meno dell'Amichevole? No, di più. Ve la ricordate l'Amichevole? Sì, sì, io non ce nemmeno più me lo so. Stendiamo un vero pietoso, Monica? Mamma mia. Comunque oggi è stata una bella partita, tu c'eri all'Amichevole, vero? Sì, c'era anche all'Amichevole. C'è una differenza? Sì, un po' è come. Rampio ho preso un euro goal prima o subito. Ah, è vero, è stato un euro goal che ci siamo rifiutati di riprendere. Allora, oggi la squadra è soddisfacente? Sufficienti, dai. La squadra avversaria? Molto lavorato. Molto... è la tosta. La tosta, bravi, fanno girare la palla. Perfetto. Perfetto, quindi tutto... Matteo, oggi un po' sottotono? Sì, però... Sì, però... Sì, però... Un po' migliore dell'altro. L'importante è fare passi in avanti, giusto? Sì, però, noi ce la faremo. L'hanno fatto un passo in avanti questi ragazzi? Sì. Anche due. Bene. Ho migliorati. Ho fatto due gol. Però poi lo abbiamo tutti. È vero. No, no, vabbè. Te li sei anche meritati. È vero. Però poi lo abbiamo tutti. Comunque, senti, questi ragazzini stanno migliorando. Si vede, eh? L'altra volta sicuramente. L'altra volta sicuramente. Va bene. L'altra volta un velo pietoso. Dai. Aspettate ragazzi un attimo. Sì, la tutti siamo divertiti. È stata una partita impegnativa. Meglio del previsto. Sì, sì. Molto meglio. Eh? E questo comunque è importante. Bravi ragazzi. Il capitale.